la mia carica senti ma allora è scritto un libro finalmente due ne ho scritto uno nero e uno rosso e allora dove lo presenti? alla York Cerebre TV Dimmelo tu, non lo so dov'è Non lo so Alla tv game show numero 9 La live dove presenteremo il nuovo libro di Mickey del Prete Ti saluto e ti ringrazio anche voi Grazie Grazie